Ben ritrovati amici di Le Cosimo, quest'oggi siamo in compagnia dei quattro aneo eletti rappresentanti di istituto della nostra scuola del De Giorgi e abbiamo rispettivamente i tre rappresentanti di licea, Marta Signore, Marta Cucuracchi ed Eugenio Ponte e la rappresentante di idealista Lucia Guerra. Iniziando proprio da licea che ha conquistato tre seggi su quattro vorrei chiedere ai ragazzi della lista di Marta Signore se si aspettavano questo risultato anche in virtù dello straordinario successo che avevano ottenuto lo scorso anno, vi ricordo che erano riusciti a conquistare quattro seggi su quattro e anche considerando che comunque quest'anno pur avendone tra virgolette conquistati solo tre sono riusciti ad aggiudicarsi anche l'organo di garanzia e la consulta. Allora è stato un fantastico risultato che sinceramente non ci saremmo aspettati, nonostante il gruppo molto coerente, molto coeso e speriamo di averlo sempre dimostrato, avevamo dei validi avversari tra virgolette, tutti bravissimi candidati, quindi non ci saremmo mai aspettati questo risultato. Vorremmo fare complimenti sia ai nostri che ai candidati di idealista per la la bella campagna che c'è stata e niente, che dire, siamo soddisfatti. Appunto come diceva Marta, l'unico ostacolo che si è posto fra loro e il bis dell'egemonia è stato Lucia Guerra, candidata, che è comunque riuscita a scalzare l'icea dopo l'imposizione con quattro seggi su quattro dello scorso anno. Possiamo parlare di missione compiuta, siete soddisfatti voi di idealista? Sì, noi di idealista siamo molto soddisfatti di essere riusciti a conquistare un seggio. Speravamo di poter fare molto di più, però comunque, ripeto, siamo molto soddisfatti. Noi alle elezioni eravamo già allenati, se si può dire, dall'anno scorso, però quest'anno abbiamo deciso di metterci in gioco con una nuova lista. Appunto, essendo una nuova lista, non pensavamo di avere così tanti voti dal nostro istituto. Si tratta comunque di un periodo particolare per rappresentare le scuole, come anche ha testimoniato il recentissimo sciopero che si è tenuto appena qualche giorno fa, su cui poi vorrei sapere anche la vostra opinione. Ad ogni modo, dicevo, è un periodo molto complesso, se vogliamo, per rappresentare gli studenti, dal momento che spesso si sente parlare della categoria studentesca come di una categoria che viene dimenticata, calpestata, lasciata per ultima. Voi sentite la pressione nel doverci rappresentare in un momento tanto delicato, forse? Sì, diciamo che quest'anno è un periodo molto più particolare rispetto agli altri anni, perché con la situazione del coronavirus la figura del rappresentante deve essere ancora più vicino agli studenti e deve garantire ancora di più il fatto che loro vengano rispettati e comunque ascoltati. Specialmente per rispettare proprio questo ruolo e per rispettare la figura dello studente è stato fatto lo sciopero i giorni scorsi, proprio perché la categoria studentesca viene sempre calpestata e lasciata da parte. Quindi nonostante le scuole poi, nonostante diciamo l'obiettivo principale era il raggiungimento della DAD al 100%, lo sciopero si è continuato proprio perché c'era comunque il problema dei trasporti che poi sarebbe continuato a ricominciare della scuola, quindi quando poi sarebbe fatto il 75% in DAD e poi il 25% in presenza, che per i ragazzi che vengono dai paesi, insomma dalla provincia di Lecce persisteva il problema e anche per dimostrare alla regione il fatto che noi studenti ci sentissimo lasciati da parte e non ascoltati nelle nostre esigenze. Quindi noi come rappresentanti crediamo che sia stato un momento di coesione totale per tutta la provincia o comunque per tutta la città di Lecce perché sono unite molte scuole in questa iniziativa, ma comunque è una cosa che andava fatta per far sentire la nostra voce. Lucia, tu senti anche tu la pressione? La pressione si sente non come rappresentante a mio parere, ma come studente perché appunto con i nuovi di PCM che escono quasi ogni giorno e cambiano sempre regole, lo studente si ritrova a non sapere più dove andare, cosa fare. Infatti come ha detto Marta, lo sciopero si è voluto fare, si è fatto per far capire che la voce dello studente conta, le esigenze dello studente contano, come appunto i problemi del trasporto, dell'orario e anche il 25% in presenza e il 75% in DAD. Anche se le scuole sono state chiuse, lo sciopero si è voluto continuare, come ha detto Marta, per far capire che noi studenti siamo pronti a lottare per i nostri diritti e per far ascoltare la nostra voce. E invece qual è il punto che per voi risulta effettivamente essere prioritario e che quindi credete debba essere realizzato per primo, anche alla luce della situazione attuale abbastanza complessa? Ok, per idealista, io vorrei realizzare come primo punto quello di Ideagram, cioè una piattaforma Telegram, un gruppo Telegram dove tutti gli studenti possono conoscersi tra di loro, stringere nuove amicizie e rompere questa differenza che si ha tra De Giorgi Centrale e De Giorgi Succursale, che è molto sentita da alcuni studenti, anche per favorire la circolazione di informazioni molto importanti della scuola senza magari creare confusione e circolari. I circolari sono molto importanti perché alcuni corsi che De Giorgi realizza in succursale magari possono arrivare in ritardo oppure non sono ben comunicati e quindi gli studenti si ritrovano a non avere più la possibilità di partecipare ai corsi che De Giorgi propone. Certo, invece per licea quale sarebbe la priorità? Beh, ovviamente da parte nostra, vedendo tutti e due, tutti i punti, sia di idealista che di licea, ci sono molti punti in comune. Come per esempio se si dovesse appunto rimanere in dad, ovviamente non potendo assicurare il contatto fisico a tutti quanti, sia da una parte che dall'altra abbiamo proposto i tornei online. Ma soprattutto anche come ha detto Lucia, uno dei punti di tutte e due le liste era comunque migliorare la comunicazione e il senso di appartenenza. Quindi sicuramente si procederebbe con il merchandising che secondo noi, o secondo tutti spero, sia un punto fondamentale per sentirsi della scuola e sentirsi ancora a scuola, perché secondo me è una parte fondamentale per tutti quanti, visto l'andazzo diciamo. Come ha detto appunto Lucia prima, esce un PCM ogni giorno, quindi dobbiamo appunto essere pronti a tutto e cercare di essere coesi tra di noi. E successivamente, anche se appunto si spera si possa continuare a uscire o almeno tenere quest'orario fino alle 6 che c'è finora, noi penso vorremmo realizzare come abbiamo già alcune affiliazioni la De Giorgis Card, che anche l'anno scorso appunto ha funzionato e perché no, ci sono degli sconti interessanti, delle offerte molto carine per noi giovani, per noi De Giorgini, che potrebbero essere sicuramente attuate. Ovviamente poi gli altri punti si cercheranno di attuarli sia per una lista che per l'altra, visto che appunto siamo due liste e quindi potremmo scambiarci idee molto ragionevolmente. E niente, questo si lavorerà in coesione anche tra noi rappresentanti e si cercherà di fare il possibile per rendere meno pesante ovviamente quest'anno che è molto particolare, parecchio particolare. Adesso un'ultima domanda dal carattere un po' più personale, mi piacerebbe avere una risposta da ognuno di voi. Come vedete la scuola ha un anno dalla vostra lezione, pensate di riuscire a lasciare il segno, quantomeno a cambiare qualcosa di significativo, qualcosa che possa restare nel tempo. Lucia va benissimo. Parto io, ok. Guarda, io spero vivamente di sì, comunque la scuola è stata molto importante ed è tuttora molto importante per me. Ho vissuto quattro anni, sto facendo il quinto, questo è il mio ultimo anno. È un po' differente dagli altri. In precedenza, magari nel mio primo anno, non pensavo di dover affrontare il quinto così, senza vivere la scuola al 100%, senza salutare, poter salutare i miei professori e magari avere un ultimo giorno, il primo giorno di scuola e un ultimo giorno di scuola come l'hanno avuto tutti i ragazzi di quinto passati. Io spero di riuscire insieme ai miei colleghi, si può dire colleghi, a far vivere quest'anno particolare al meglio a tutti gli studenti, alleggerendo tutta questa pesantezza che si ha in questo periodo particolare e facendogli anche divertire magari con l'organizzazione di alcuni nostri punti e quindi di lasciare un ricordo abbastanza positivo nonostante tutte le brutte notizie che si stanno avendo in questo periodo. L'anno prossimo, chi lo sa, magari ci sarà qualcun altro al nostro posto che sarà in grado di portare avanti tutte le nostre idee. Va bene, grazie Lucia. E Marta, Marta, non so quale delle due vuole andare per prima? Parto io? Allora io penso che tutti i rappresentanti abbiano lasciato a modo loro qualcosa, io ricordo ancora i rappresentanti dal primo superiore, quindi diciamo che mi sono rimasti tutti quanti impressi e speriamo di rimanere impressi anche nei quattro in qualche modo, speriamo anche significativo, positivo ovviamente. Ovviamente da ora potremmo anche annullare la differenza licee ed alista, visto che da oggi inizieremo a lavorare tutti quanti insieme, l'unico obiettivo di tutti e quattro sarà quello di rendere la scuola il più piacevole possibile per tutti i ragazzi del De Giorgi, noi inclusi, perché anche noi ne facciamo parte ovviamente. Marta? Spero di aver risposto adeguatamente. Certo, certamente. Per quanto mi riguarda, quello che spero è lasciare un segno più che altro per quello che realizzeremo noi quattro come rappresentanti tutti insieme, più che me presa nel singolo, perché credo che specialmente in quest'anno sia importante cercare di realizzare più punti possibili per quanto riguarda le liste, ma comunque far stare il meglio possibile i ragazzi che già stanno vivendo, che già sono provati comunque da questo periodo che è abbastanza strano e particolare per tutti. Quindi spero principalmente che rimanga il segno di questo e del nostro impegno e della nostra attenzione nei confronti del resto di noi studenti. Però comunque, come ha detto Marta prima, anche io ho il ricordo di tutti i rappresentanti da quando io stavo in primo, quindi penso che comunque quando si condivide un luogo come la scuola, in cui tutti noi abbiamo dei ricordi sia positivi che negativi, comunque rimane anche un po' il segno di ogni persona con cui lo si condivide. Infine, Eugenio, tu sei d'accordo con la linea che abbiamo definito o ti discorsi? Sì, mi aggancio a tutte le idee che hanno buttato giù le mie tre, come dice Lucia, colleghe, che è una parola colleghe o compagni, addirittura forse è meglio. Diciamo che, come ha detto Marta, a oggi annulliamo appunto, Marta S, annulliamo il divario tra licea e l'idealista e appunto diventiamo a tutti gli effetti un nuovo gruppo. Se fino adesso siamo stati un gruppo come lista, adesso saremo un gruppo come rappresentanti per cercare appunto di alleggerire quest'anno per tutti quanti noi compresi. Ovviamente il fatto di lasciare qualcosa all'istituto, penso che ogni rappresentante non miri proprio a rimanere impresso. Ovviamente è una cosa che fa piacere a chiunque, ovviamente, però quello che penso preoccupi un rappresentante in sé per sé è far sì che tutti gli studenti possano vivere un anno sereno e tranquillo, perché più che altro noi siamo studenti come tutti gli altri, ma abbiamo un ruolo diverso in quanto noi siamo portavoce degli stessi, quindi niente di più niente di meno, abbiamo solo un ruolo istituzionale in più, ma non siamo né sopra né sotto a nessuno. Quindi questo è molto importante e spero che tutti e quattro riusciremo a fare questo quest'anno, quindi ad alleggerire la pressione e a dare manforte agli studenti che hanno deciso di contare su di noi. Questo è tutto quello che penso per gli anni futuri e chissà, l'anno prossimo magari ci saranno altre persone che avranno i nostri stessi obiettivi, magari con liste totalmente diverse o persone che quest'anno non si sono candidate, non lo so, però questo è l'ideale. Bene ragazzi, allora grazie mille per le vostre risposte, ma soprattutto per il vostro tempo. Io vi faccio una sincera in bocca al lupo e spero che possiate lavorare in serenità per quest'anno. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie a te, John.